Allora, nel 2010 accadono due fatti importanti. A luglio viene creato questo cerchio nel grano, a settembre l'arcangelo Michele rivela a Giorgio Bongiovanni nome e cognome dell'anticristo. Gli dice chi è e gli dice cosa fa, qual è il suo piano, perché da quel momento lui entra in una fase particolare, tra l'altro Giorgio lo ha incontrato fisicamente due volte in Italia, all'anticristo. No, non è nell'Inghilterra l'anticristo. È molto più vicino di quello che pensi. Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose e egli effettivamente riuscirà a introdursi fino alla sommità della chiesa. Non è il Papa, Papa Francesco è buono, anche se ogni tanto fa qualche, dicono i siciliani, minchiata. Allora, compaiono questi due cerchi nel grano importanti, anomali, non era mai apparso nulla di simile, tranne uno, un po' somigliante ma non così, di fianco alla M4, una trafficatissima autostrada inglese, io ci sono stato sulla M4. Sono due diagrammi, mentre i cerchi nel grano sono cerchi simbolici, quindi sono simboli chiari, questi non c'è niente, solo puntini, linee, eccetera. Quindi vengono estratti i diagrammi e per alcuni giorni i ricercatori cercano di capire, anche sovrapponendoli, che cavolo fossero, addirittura è venuto fuori una specie di Stevie Wonder. Fino a che un ricercatore inglese non scopre che era questo, il volto del Cristo sindonico rielaborato dalla NASA, quindi un Cristo vivo, non un Cristo morto, il Cristo vivo risorto. Io in quel periodo non avevo molto tempo da dedicare a questo studio perché stavo producendo un importante documentario che era stato chiesto dalla Madonna a Giorgio Bongiovanni. E Giorgio ovviamente ha chiamato me e dice tu sei un professionista, fallo tu, quindi ho fatto un documentario della Madonna. Credo che ci sia sul tavolino, si chiama. La Madonna chiede a Giorgio in un'apparizione che ha avuto in Cile di fare un documentario che lei chiama, Giorgio voglio che tu realizzi un mosaico visivo auditivo, mosaico visivo auditivo, documentario bellissimo, con le più importanti apparizioni dove lei ha dato messaggi di importanza per tutta l'umanità, quindi Fatima, Meggiugori, La Salette, eccetera. E quindi non avevo molto tempo da dedicarmi a capire cosa fossero questi diagrammi, ma appena lo scopro prendo subito il telefono e chiamo a Bongiovanni. Lui mi risponde però dal tono della voce comprendo che sta entrando in quel particolare processo della sanguinazione dalle stimmate. Allora non lo voglio disturbare perché è un momento anche di grande dolore fisico, gli dico guarda ti richiamo dopo, va bene. Dopo due ore, io mi dimentico perché lavorando il tempo ti vola, mi chiama lui, mi dice «Pierre ho ricevuto durante la sanguinazione un messaggio proprio sul cerchio nel grano di cui tu mi stavi parlando, io pensavo che lui non mi avesse capito, invece mi aveva capito e questo è il messaggio». I fratelli della luce, Setuncenar, che è un po' la guardia del corpo di Giorgio, e Itacar, che è Raffaele, comunicano, sono il suo nome cosmico. Siamo stati noi coloro che hanno creato nel Wicam Green, nel Berkshire in Inghilterra il volto sacro di Gesù Cristo, la Sindone. Vi abbiamo già spiegato in comunicati precedenti la natura dei pittogrammi da voi chiamati cerchi nel grano. Noi possediamo una scienza che può creare questo ed altro nella vostra dimensione. Solo vogliamo ricordarvi che il discorso e il messaggio che in tutti questi anni abbiamo lanciato anche attraverso il fenomeno dei pittogrammi subisce per evoluzione naturale un passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale per porre in evidenza alle nostre coscienze che questo è il tempo che annuncia l'avvenuta di Cristo sulla Terra. E quindi il trionfo della scienza dello spirito sulla scienza senza coscienza materiale che sta distruggendo il pianeta e l'umanità. Io salto sulla sedia perché Giorgio me lo legge al telefono il messaggio, ho detto bingo! Il fenomeno subisce un passaggio. Bene, allora se davvero gli esseri che contattano Bon Giovanni in Italia sono quelli che poi vanno in Inghilterra a fare il cerchio nel grano e il messaggio è vero, non che io avessi bisogno, però sapete il ricercatore è sempre San Tommaso, deve sempre verificare tutto. Quindi adesso in Inghilterra deve comparire un cerchio nel grano a simbologia sacra, cristiana, e che loro sono gli angeli di Cristo. Quindi mi sono sfregato le mani, ho messo il timer e ho detto, vediamo, è passata una settimana e guardate un po'. Il simbolo cristiano per eccellenza, il calice della comunione cristica. E Giorgio riceve un altro messaggio. Se poteste comprendere realmente la profondità spirituale del segno che abbiamo manifestato in un campo di grano in Inghilterra, sareste in grado di realizzare il messaggio messianico del quale noi siamo portatori. Su questo calice possiamo solo dirvi che sulla terra vive e opera per volontà dell'Altissimo Signore del cielo e della terra, che è il Padre di Cristo, cioè Adonai, il calice vivente della comunione cristica, che porta i segni sanguinanti della crocifissione di Gesù. Vi preghiamo di essere molto attenti, molto seri e di non burlarvi di questi segni, perché vengono dalla volontà dei nostri maestri cosmici, che sono i sette Arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, Uriele, Sealtiele, Geudiele e Barachiele. E naturalmente da quella dell'Altissimo Padre Adonai, pace sulla terra. Ora la cosa straordinaria è che il messaggio del cerchio nel grano è un messaggio, vedete che l'ossatura del calice della comunione è lo stesso simbolo di unione fra cielo e terra. Quindi cielo e terra, cioè noi e loro, ci possiamo unire solo attraverso la verità cristica del Vangelo, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E rivelano che il santo Graal sono gli stigmatizzati come Bon Giovanni, che noi con i miti di Parsifale e leggende abbiamo cercato il calice dell'ultima scena, Cristo li ha trasformati in esseri viventi, che sono veramente i calici da cui gronda a tutt'oggi il sangue di Cristo, per la redenzione di molti ma non di tutti. Vedete? L'ossatura del calice. Termino con un cerchio nel grano dell'anno scorso, ce ne sono stati vari dove la profezia non solo è stata confermata in questo caso, ma la profezia dei cerchi profetici, da quell'anno in poi, tutti gli anni e mai come l'anno scorso, ha marcato i tempi dell'Apocalisse di Giovanni, che è quasi alla fine. Ricordo che l'Apocalisse viene dal greco e significa la rivelazione, quindi oggi noi stiamo vivendo il tempo in cui Dio rivela all'uomo, in un'età scientifica, la sua reale natura, trascendente, immanente, scientifica, non religiosa, fideistica. Cerchio nel grano che vi faccio vedere questo, è un diagramma di nuovo frattale, vediamo lo schema, quindi è una struttura molto simile a quella ricorsiva frattale, ed è formato da 28 stelle a 5 punte e 29 pentagoni che sono iscritti, vedete, in esso, più il grande pentagono formato dal perimetro della stella. Cioè così lo identifichiamo meglio. Allora, la stella a 5 punte, tra i vari significati, rappresenta Cristo, le sue 5 piaghe. Perché i simboli satanici sono i simboli cristiani al contrario? Perché Satana non ha libero arbitrio, quindi non può creare. Quindi cosa fa? Gira al contrario quello che fa il creatore, lo rovescia. Quindi la croce all'ingiù, la stella a 5 punti all'ingiù, tutto all'ingiù. Ad esempio, noi diciamo, Ah, sei un caprone. Ecco loro, i satanisti adottano baffometto che è la testa del caprone, che l'anticristo loda e si spertica in lodi, che è un bellissimo segno, bontà sua. La stella a 5 punte, anche in questo caso, rappresenta, questi 5 raggi, le 5 piaghe di Cristo, e quindi Cristo stesso. Il pentagono, al centro della stella, rappresenta la forza, la potenza di Cristo. Quindi questo pitogramma rappresenta l'apoteosi della missione di Gesù Cristo, cioè la potenza e la gloria della sua seconda manifestazione nel mondo. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, non lo colleghiamo mai, lo diciamo, ma non ci viene in testa che Gesù torna. Le frasi seguenti, tratte dal capitolo 24 del Vangelo di Matteo, Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno le acque. Quella volta ci scrivono gli avvoltoi, e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti da un estremo all'altro dei cieli, cioè da tutto il pianeta. Indicano le milizie celestiche, gli angeli ieri, extraterrestri oggi, che sono parte integrante della potenza di Cristo. e la loro opera salvatrice, adesso in azione da decenni, nel tragico momento per l'umanità in cui ci dovrà essere il prelevamento degli eletti che accadrà durante la terza guerra nucleare, che stanno con grande sollecitudine gli americani preparando. La terza guerra mondiale scoprirà all'improvviso? Beh, lo stanno... No, non è all'improvviso. È all'improvviso lo scoppio di una guerra in termini bellici di fuoco e certo qualcuno prima o poi sparerà il primo missile, ma la stanno facendo adesso. Cioè i missili, l'uscita dal trattato delle armi nucleari a corto raggio dell'America è perché stanno mettendo, i missili li stanno piazzando al ridosso della frontiera russa, perché la teoria, mentre negli anni della guerra fredda l'incipit è stato la mutua distruzione assicurata, MAD, che vuol dire anche pazzo, è un acronimo, la MAD, mutua distruzione assicurata con l'equilibrio nucleare. Adesso nei pazzi della Nato c'è, e quindi su quella si arretta la pace degli ultimi 70 anni. Va bene? L'equilibrio del terrore. Ma i folli della Nato con gli ultimi sviluppi tecnologici hanno sviluppato la teoria del first strike, del primo colpo nucleare che abbatte la possibilità di reazione del nemico. Quindi stanno, ovviamente, meno tempo è il nemico di reagire all'aggressione atomica, più tu hai probabilità di vincere, perché un missile dall'America alla Russia ci impiega un quarto d'ora, bene che vada. Invece, se ti li piazzo al ridosso della frontiera, c'hai un minuto per rispondere, magari non gliela fai. Infatti Putin cosa ha fatto? Ha fatto i missili personici che viaggiano a 10, 15, 20 volte alla velocità del suono. Xi Jinping poche settimane fa ha detto al suo esercito preparatevi, stiamo per entrare in guerra. Putin l'ha detto all'esercito russo, ma il popolo, i media, non gli dicono nulla. Xi Jinping perché mentre l'Europa e soprattutto l'America sono in fallimento economico, la Cina e attraino la Russia economicamente parlando, sono il primo mondo. Quindi loro non hanno interesse a una guerra, ma l'America l'unica folle nella loro testa di pazzi possibilità che vede è la distruzione nucleare dei competitor internazionali. Questo è stato già pubblicato in un documento del settembre dell'anno 2000 dal PNAC dove questi folli ma sono pubblici questi documenti avevano detto all'epoca nel 2000 che bisognava distruggere la Cina entro il 2017. Non l'hanno fatto perché la Russia che all'epoca era ancora debole e immersa nei problemi si è risollevata e la Russia ha la triplice arma nucleare potente contro quella americana e quindi gli ha scombinato i piani quindi adesso questi folli stanno preparando un doppio fronte di guerra quello pacifico e quello atlantico cioè con la Russia questo sta per accadere quindi le milizie celesti si stanno preparando perché il tempo del loro intervento diretto per salvare il salvabile si sta avvicinando. Nel pitogramma gli extraterrestri sono simboleggiati dalle piccole stelle di varie dimensioni che circondano e fanno parte integrante della grande stella che rappresenta Cristo e la sua gloria quindi il pentagono e tutte loro indicano quindi la potenza di Cristo ovviamente siccome sono secondo la profezia di quel messaggio cerchi nel grano a carattere escatologico profetico si rifà anche questo meraviglioso pitogramma al Vangelo subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà la luna non darà più la sua luce questo è l'inverno nucleare perché loro interverranno entro dieci minuti ma comunque esploderanno molti missili atomici quindi ci sarà un inverno nucleare che oscurerà il sole e la luna la luna non darà più la sua luce le stelle cadranno dal cielo le stelle sono questi mezzi volanti degli angeli che nel cielo brillano come stelle e le potenze dei cieli saranno sconvolte questo è il cambio dell'asse fisico del pianeta che è l'ultima tromba dell'Apocalisse grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti